La zona dell'area est, qual è l'esigenza del Comune, qual è la priorità? Sicuramente noi abbiamo un grande piano di investimento sull'area est, che è un piano che parte dalla riqualificazione delle aree di edilizia economica e popolare, dove faremo interventi molto importanti anche col PNRR, il recupero del mare, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista del rapporto urbanistico col mare, forti investimenti in innovazione e cultura, perché la nostra idea è che quest'area est diventi un po' il distretto tecnologico e digitale di sviluppo, partendo da San Giovanni, ma non solo, anche su Ponticelli abbiamo investimenti significativi, quindi una trasformazione importante, chiaramente poi i temi sociali, il verde, la riqualificazione del territorio, c'è un grande piano di investimenti che ci auguriamo di poter portare a termine rapidamente e di poter quindi migliorare la qualità della vita di questa parte importante della città.